Cari amici, dico subito grazie al Signore per il dono di questo nuovo anno 2014. Il tempo, in generale, è una grazia che ci è concessa dall'alto, da colui che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine di tutto. Il tempo è l'espressione della pazienza di Dio nei nostri confronti e gli aspetta senza fretta il nostro ritorno a Lui. Lo fa sempre con infinita pazienza, rispettando i nostri ritmi. Come il Padre misericordioso della parabola, ascruta l'orizzonte nella speranza di vederci un bel giorno comparire all'orizzonte e poterci finalmente accogliere tra le sue braccia. Il tempo e qualunque sua frazione ci ricorda anche la nostra condizione di creature. Siamo imperfetti e fragili e basta un soffio per farci cadere come foglie dall'albero. In passato, giustamente, si diceva anno del Signore, anno domini, perché avevano chiara la percezione che il tempo fosse loro dato per grazie e perciò computavano gli anni a partire dalla natività o dall'annunciazione, cioè l'inizio dell'incarazione, internazione. Il calendario cristiano accompagna il nostro cammino nel tempo, facendoci rivisitare tutto il mistero della redenzione, facendoci incontrare i testimoni della fedeltà, i santi, che diventano quindi i nostri compagni di viaggio e i nostri modelli. A differenza dei moderni calendari laici, che li hanno cancellati quasi vergognandosi della loro presenza, il calendario cristiano non si vergogna di ricordare quanti ci hanno preceduti nel segno della fede. Il nuovo anno è anche occasione e stimolo per un nuovo inizio. Questo è anche il senso degli auguri che ci scambiamo, anno nuovo, vita nuova, un contenuto molto impegnativo per ciascuno. A voi tutti vadano i nostri auguri per il nuovo anno. Sia davvero ricco di grazia e di benedizione. Ricevete questi auguri da parte mia e di tutto lo staff di Capuccini TV. Il nuovo anno ci trovi uniti nel bene e nella fedeltà a Dio e sempre uniti nella preghiera. Ci benedica a tutti il Signore. Pace e bene.